A Cipigna! È la sesta pop star morta nell'ultimo anno con quell'espressione. Bella mondo. C'è solo una persona che può interpretare quell'espressione. Sono fuori moda. Ho perso il fuoco. Tu sei Derek Zoolander. Hai fermato una stella da lancio con un'espressione. Flashami la bellissima Magnum. Fermo! No! Magnum, ora! Prendi questo! Seghina! Puoi provare con un asciugamano? Derek Zoolander, sono dell'Interpol, Global Fashion Division. È gnocca. Io mi fido. Che ne sai tu di moda? Ero modella di costumi da pagno. Ti sono vicino. Non sono mai riuscita a passare al vostro mondo per colpa di questa. Orrore. Sicura che Zoolander sia l'uomo che fa per noi? Ciao, bell'uomo! Ma qual è il tuo problema? Vogliamo che ti infiltri nel mondo dell'alta moda. Se parliamo di supermodel, non ha confronti. È Hull. Cioè, tu sei modella femmina o modello maschio? Hull è Hull. Ti sta chiedendo se hai il salsicciotto o la patata. Ops. Ci può essere un unicamente criminale dietro a tutto questo. La prigione mi ha cambiato. Sono cattivo dentro adesso. Todd, dov'è il mio dannatissimo latte? Chi dice che le modelle di costumi sono inutili? Prendimi da dietro e stringi come se da questo dipendesse la vita. Non così. Così! Per la sicurezza e il galleggiamento. Aspetta, cosa? Torniamo a nuoto a Roma. Oh, ok. Torniamo a nuoto a Roma. 1 Episode 2 4 5 6 Grazie a tutti.